Si è rispoltata a Rassina la quarta edizione della Eco Mezza Maratona del Casentino. La quarta edizione della Mezza Maratona del Casentino era valida come ottava prova del Grand Prix. La novità di quest'anno era quella di utilizzare come percorso la pista ciclabile che va da Rassina a Ortignano-Raggiolo. Hanno preso parte alla competizione oltre 300 concorrenti più circa 100 del settore giovanile, due le gare, quella di 10 km e quella per gli agonisti di 20. Subito in testa Murbachi, atleta dell'Atletica Sestini, che guadagnava qualche metro sulla coppia Annetti della Policiano e Occhiolini della Fili Run. Mentre alle loro spalle si formavano gruppi numerosi per la 21 km con Taras, Ragazzini, Farinelli, Bucca, Fatichenti e Bettarelli. Anche in capo femminile ritmo sostenuto con Francesca Barnischi in testa, talonata a pochi metri da Valentina Mattesini. Dopo 31 minuti e 50 secondi è giunto al traguardo di piazza Mazzini Ahmed Murbachi con un vantaggio di circa un minuto su Alessandro Annetti e quasi due su Filippo Occhiolini. In campo femminile vittoria andata Francesca Barnischi con il tempo di 37 minuti e 10 secondi con un vantaggio su Valentina Mattesini di 24 secondi. Intanto nella 20,400 km Cristian Taras lascia la compagnia e va a condurre solitario la corsa. Secondo Andrea Farinelli, terzo Lorenzo Bucca. Alla prossima